Stamattina mi ero truccata in questo modo, ma in 10 minuti contati di orologio realizzando questo micro estratto per condividerlo con voi per un'ispirazione di make up Beh, mi avete scritto talmente in tante che l'ho rifatto nuovamente senza tagli insieme a voi, sperando che vi possa essere utile Quindi vi lascio al video del make up e credo di aver rotto qualcosa Aspettate Ecco appunto, sì Vi lascio al video del make up e vado a sistemare l'anno che ho appena fatto Comunque, realizzatelo con la gamma cromatica che preferite con l'intensità che più vi piace e aspetto le foto dei vostri tentativi Buona giornata, buon anno ancora Ciao amiche mie Struccata, quindi Idratata, ho ripassato tutto, siero, crema e contorno occhi e cerchiamo di fare senza tagli il make up del Get Ready With Me velocizzato che stamattina vi è piaciuto Allora, ovviamente ripeto, idratata la pelle perché va sempre idratata, ho passato il siero, il contorno occhi e la crema Passo un siero fondotinta, voi ovviamente passate la vostra base sto passando questo qui di Clinique che rimane molto leggero e appunto dall'effetto di siero quindi la pelle rimane in trasparenza, rimane abbastanza elastica Lo sfumo, come avete visto ne ho messo poco, nelle parti centrali sfumo qui sul naso e stendo verso fuori Quando passate il fondo vi conviene sempre partire dal centro del viso ed andare verso i lati perché la parte che dovrà essere più compattata è questa qui centrale Poi vado con il correttore Utilizzo questo qui di Tenuna che mi sta piacendo tantissimo Un po' qui e un po' qui Con lo stesso pennello morbido perché se sfumate con un pennello morbido l'effetto rimane più diffuso, meno localizzato Illumino e correggo la zona pericolare Questo guardate quanto è bello nel finish Devo dirvi che rimane sottile, non segna e mi sta piacendo molto Ne passo quello che rimane sul pennello anche sulla palpebra per prepararla al trucco dell'occhio perché appunto è stato un trucco Vi assicuro che ho fatto stamattina in 10 minuti prima di uscire perché ero in ritardo E ci ho anche fatto il Get Ready With Me Allora, passato In ciprio Prendo la palettina Dov'è, dov'è, dov'è Vedete poi mi perdo col pennello Ok In ciprio Quindi ciprio trasparente Utilizzo questa qui della palettina di Inglot Setto prima la zona perioculare per fissare il correttore Intensifico la zona T Che è quella nella quale di norma ci si lucida maggiormente Poi in maniera invece più sfumata Applico la cipria sul resto del viso per fissare l'altra parte di trucco Cambio pennello E passo Il blush Qui sopra Quindi nella parte alta dello zigomo Andando verso le tempie per un effetto Liftante Non andate mai troppo in avanti Poi con quello che vi avanza sul pennello Andate leggermente sul ponte del naso Stesso pennello Se dal blush passate alla terra lo potete fare Invece creo con una terra fredda Un po' di sfumatura Per andare a sagomare l'uvale Che in questi giorni dopo le mangiate ci sta tutto Ombreggio anche il mio frontone Ma voi ovviamente se non lo avete come il mio non ne avete necessità E poi un pochino qui sul naso Ricordatevi che se vi piace anche l'effetto liftato Andate leggerissimamente a creare un'ombreggiatura Anche al di sopra delle tempie Fatto Tre minuti e la base l'abbiamo fatta Poi sopracciglia Matita Oggi non passo il gel Vado a ricrearmi i miei pelettini Con la mina di NYX Alzo un pochino qui l'angolo Questa scusate la fase in cui non riesco a parlare A disegnare insieme Sia quando faccio le sopracciglia Che quando metto il mascara Ma essendo un senza tagli Non posso stare proprio in silenzio Allora Alzo qui l'angolo Disegno i miei peletti Curvo E cerco di andare nel verso Delle mie vertigini Ogni tanto riprendo lo scovolino E pettino Per vedere se ci sono punti con discromia Tipo qui Un po' mancava Ma non fatelo troppo pieno in questa parte Perché sennò si vedrebbe l'artefatto Qui Si vede bene anche nel video velocizzato In realtà salgo Perché vado a disegnare La mia altezza Quindi l'h Del mio sopracciglio Leggermente più su Per aprire lo sguardo Non salite troppo Perché se invece lo fate troppo Così Sembrerà sempre uno sguardo Un pochino troppo Stupito Intensifico qui Perché non devo esserci stacchi Tiro verso giù E qui sotto Cerco di fare una bordatura Abbastanza Definita Non deve essere un taglio netto Ma deve essere una Bordatura Molto lineare E armonica Dopodiché Mi sono munita Della palette Della all over Prendo il chiaro Con il polpastrello Il color panna Opaco Ne passo un po' qui E un po' qui Io Lo sto facendo con la all over Voi fatelo sempre Con quello che volete Ah Avrei potuto fare il contouring Il blush Anche con l'altra parte Di qua Di qui adesso Mi passo l'illuminante Ho preso un'altra Perché c'era la cipria E mi Setto Il correttore Che ho passato E creo La bordatura Chiara Poi Una matita nera Qualsiasi vogliate Io ho utilizzato Questa qui di MAC Che è a lunga tenuta E sono andata E sono andata Senza tirare l'occhio A tracciare Una Righina Verso fuori Oltre L'intersezione Vedete Con la piega palpebrale E un po' di prodotto Poi l'ho portato Verso l'interno Quindi può anche venire Non proprio definita Prendo un pennellino Prima che si Asciughi Perché questa appunto Si asciuga a lunga tenuta Ma se avete una matita morbida Potete passarlo Su tutti e due gli occhi E poi sfumare Con il pennello Distribuisco Prima la pasta Della matita Per un effetto Un po' più soft E allungo leggermente La codina Ovviamente La vado a fare Anche di qui Se siete Molto brave Molto pratiche Potete andare Anche direttamente Con l'ombretto A fare questo gioco Con la matita Se a lunga tenuta Vi durerà Sicuramente Di più Di qua Continuo a avere problemi Per guardarlo Quando chiudo gli occhi Perché Guardandomi nel telefonino Vedo tutto molto sfocato Perché da questa parte È un occhio pigro Sfumo E tiro verso fuori E Lo lascio così Sporco Per farvi vedere Come Se a volte Vi capita Che non vi venga Definito Come in questo modo O perché Vedete un po' meno O perché Avete meno dimestichezza Con la sfumatura Nel momento in cui Prendete l'ombretto La situazione Si sistema Perché Potrei anche farlo Con un altro colore Matita nera Prendo il nero E picchietto Sopra La riga che ho fatto Il colore Con un pennellino In diagonale Non vado troppo in avanti E qui E qui faccio la mia cotina Una volta fatto questo Però C'è sempre Quel piccolo punto Nel quale Ahimè Negli alta Tutte Più o meno Abbiamo un filino Abbiamo un filino Di cedimento Può rimanere Può rimanere più semplice Perché andate proprio A sentire La pega palpebrale E non vi sbagliate Quello in diagonale Potrebbe essere Un pochino più complicato Da utilizzare Lo sfumo di qua E di qua Prima di passare Al marrone Però Riprendo Il nero Avrei dovuto farlo prima Ma anche in questa fase Lo potete fare Come potete non scurire Io in questo caso Però scurisco Anche tutta La rima inferiore Quindi Se volete Un make up Senza bordatura Inferiore Potete non farlo Come potreste La parte inferiore Colorarla Verde Fare invece Un colore più delicato Un burro Per aprire lo sguardo Io ero rimasta Su questo Concetto Ma la matita Quando la passate sotto Ricordatevi sempre Prima di sfumarla Un pochino Perché deve distribuirsi La parte La pasta Della matita E poi Con un ombretto O con una polvere Potrebbe anche essere La ciberasparente Andate a Fissarla Io riprendo La terra Perché vorrei Un effetto Molto delicato Come ho fatto nel video E Sfumo Al di sotto E fisso La bordatura Che ho creato Poi Per dare Quell'effetto Di occhio Più allungato Prendo Il marrone Prendo Un pennello Da sfumatura E parto Esattamente Da quell'angolino Scuro Che avevo Intensificato Sfumando Prima Lungo la piega Vedete Faccio Mezzo 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 Semicerchio Poi Inclino Il pennello Senza riprendere Niente E sfumo Verso fuori Facendo questo Create Un'ombreggiatura Correttiva Dello sguardo Lo ripetiamo Anche di qua Parto Da questo mio Triangolo Prendo un po' Di prodotto Per volta Poi Piego il pennello Vado verso fuori E arrivo A metà Della mia Piega palpebrale Se vi vengono Di tagli netti Vedete che c'è Troppa definizione Nella sfumatura Andate con il polpastrello A togliere Gli eccessi Poi Prendo Un altro colore Che è la terra Intermedio O un colore Più beige Quello che volete Anche un blush E salgo Con la sfumatura Andando Verso Il chiaro Che ho passato Tutto il sopracciglio Ma senza toglierlo Del tutto E Più dentro Quindi se io Con il marrone scuro Mi sono fermata A metà dell'occhio Con il colore transitorio Con il blush Con la terra Che è un colore più Delicato Vado un pochino Più in avanti Per dare ombreggiatura Anche a questa parte Se volete Ci potete anche Aggiungere un blush Ma io rimango In purezza Come il video E a questo punto Mascara Sempre come nel video Ho passato Lo stack Di MAC Passato sopra Guardate Sono a 10 minuti di video È praticamente finito Senza tagli Con le chiacchiere E il risultato Di un trucco Secondo me carino Sfumo Si sfumo Applico il mascara Per bene Niente Quando io applico il mascara Ando riesco a fare Due cose insieme Tolgo gli eccessi E ne applicherò Un pochino Anche nella parte Inferiore Di stack Ci sono due Tipi di Scovolini Questo è il Mega brush C'è anche il Micro brush Indicato per chi Ha le ciglia Invece più corte Più dritte Questo invece Per chi li ha Un pochino più lunghe Io inizialmente Avevo provato l'altro Non mi avevo entusiasmato Sulle mie Invece questo funziona Ed è un mascara Che potete stratificare Quindi passare più volte Perché è una pasta Modellabile Ok Passato sopra e sotto E sulle labbra Sono andata con Questo balsamo Colorato di terri Che io amo Alla follia Guardate quanto è bello Colora È confortevolissimo Sulle labbra E dà anche questo effetto Simil Satinato Un po' lucido Le labbra Ok Undici minuti Senza tagli Ci sono anche riuscita L'effetto È questo No aspettate Io vi avevo salutato Ma nel video C'era anche l'oro Pocciato qui Vabbè Poca cosa Ma se vogliamo Mantenere l'effetto fedele Del video C'era anche questo Che Ricordatevi sempre Di non passare Dopo il mascara Perché sennò Appunto Vi si può alterare Io sto ricercando Il mascara Che visto è stratificabile Ripasso Per ripettinarle Ok Ora sì che ci siamo Perfetto Buona giornata Amiche mie Aspetto sempre le vostre foto Ciao Ciao